Nella puntata precedente Bella a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovo video Cinti mi vuoi incominare Che c'è un misto in locazione No Non l'inquadrare Cosa? C'ho le mie cose Hai le tue cose? Hai cambiato i capelli Hai cambiato i capelli Perché? C'erano i bioni prima Ciao ragazzo Posto? Ragazza Eh ma prima è tardi Tu spacchi Grazie Grazie fratello Ciao Allora Vuol dire che il sapore è molto Sofisticato Il pane è delicato E si amalgamano Viene con il pollo E poi ci sono queste salse Che sono un'aggiunta molto speciale Dove sei saltato fuori da Masterchef Manco su D-Max delle descrizioni più accurate Ok ragazzi Abbiamo appena finito di mangiare Di pranzare E il pranzo è stato piuttosto bene Si si Allora di pisciare io andrei lì Il posto adatto Mi sa che Vabbè non diciamo niente ai signori Perché se no Esatto Non ci tornano più a Bologna Dai non abbiamo speso neanche tanto No pensavo peggio Comunque è sempre una garanzia mangiare a KFC Comunque sai che deve mangiare bene Non dico di qualità Però quasi E non lo farei tutti i giorni Parliamo sempre di cibo spazzatura Quindi Questo è vero Diciamo che Però dai tutto sommato Comunque ci sta Ogni tanto Ogni tanto puoi concederti La giustazione Cioè Ok ragazzi abbiamo finito di pranzare Adesso andiamo a fare un bel giretto per il centro E poi torniamo Vorremmo tornare per la merenda Però abbiamo visto che La merenda non ce l'hanno No non ce l'hanno Non hanno i dolci Non hanno i dolci Non mangiamo sempre gli stessi panini Non lo so Potremmo passare direttamente al gran finale stasera Quindi potremmo passare direttamente al gran finale stasera E tornare per la cena Quindi adesso noi andiamo a fare un bel giro E torniamo per la cena Oh 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 Posso finire? Riprendi 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 Vado ancora io con lui Ok No ragazzi sto facendo 24 ore solo che si Se volete venire dopo a mangiare siete benvenuti Ma pure io A posto Voi avete un talento nascosto comunque dire Talento nascosto Talento nascosto Piazza Maggiore Che bella ragazzi Bologna Che bella ragazzi Bologna Che bella ragazzi Bologna Che bella Che lo posso dire Vero che bellissima Bologna? Qua come voi Ma tu sei la cugina di Yub Questa parte la taglierò Che bella ragazza Che come voi 呢 S Bry los Ragazzi ringraziamo Pierre per aver presentato con noi, questa 24 ore è solo KFC, Gabri purtroppo ha dovuto scappare Sì, adesso tra poco è l'ora di cena, quindi decidiamo dire che il KFC ad ora, ciao ragazzi Ok ragazzi siamo arrivati al KFC per la cena, ci siamo, andiamo a mangiare ragazzi, ordiniamo e mangiamo le mani, utilizziamo le mani sempre, mi raccomando ragazzi Merda anche un'insalata a 8 ore e 10 Un'insalata a 8 ore e 10 Quale il numero? Il nostro numero è il, guarda 629 629? È già pronto? Bello, così ragazzi, mi riuscirà più in dolore Ecco qua ragazzi la roba che abbiamo preso per la nostra cena, l'ultimo pasto di questa 24 ore solo KFC Guardate qua ragazzi, un packet di puro pollo e puro KFC Bene, chiaro Siamo pronti per l'assaggio, no? Chiaro Devo dire che non è male Ah, assaggiamo questo pollo Buon appetito ragazzi Buon appetito Un po' di dolore Mmm, ma lo Che bello Beh, ti guardi bro Mi sono belle col canzio queste lette Altro che 24 ore Mmm Vero Allora bro, com'è? Non c'è male? Beh, non c'è male C'è cosa? Perchè cambia? Non quando fare video oppure quando fare storia C'è bene? Adio? C'è bene? C'è bene? Forse non mi vuole Non, non Forse non mi vuole Non mi ha detto Cazzo incredibile Ma l'ha detto mi sono passato di buono Beh Questo pollo rispetto agli altri è più buono Ma sapete perchè? Perchè non ho pagato io Ancora meglio no? Ancora meglio no? Al prossimo turno chi offre? Beh c'è Dan dopo, è chiaro? Lui? Non mi ha mai fatto Tu? Tu è Dave prossima volta quindi Assolutamente Sì C'è Dan? Mh Oh veramente buono sto pollo eh Mh Io viverei solo con questo Mh 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 B Mh 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 questo è un po' di meno un po' di meno non fare negativo posso mangiare il pollo no bro dammi qua divertitevi ma cosa stai dicendo no aspettate raga come si fa vedere cioè non si può vedere sta cosa no bro non ci siamo tanta roba ragazzi io vi ringrazio questo vi incontro ne sono KFC Challenge noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscrivetevi qua sotto quale altra 24 ore volete vedere e quale passo volete io vado a provare quindi ragazzi lasciate un like lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video allo studio e noi ci vediamo e